ciao a tutti devo dire che io sono molto fortunato perché negli ultimi tre giorni ho ricevuto due volte gli auguri di buono nomastico il 21 perché san luigi e io sono già luigi e oggi perché san giovanni quindi due volte comunque voglio ringraziare tutti siete molto affettuosi ciao 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 gianni morandi oggi si è connesso ai social come fa puntualmente per aggiornare i suoi fan questa volta ha voluto ringraziarli per gli auguri di buono nomastico ricevuti sia per san luigi che per san giovanni infatti il noto cantante ha due nomi nel video pubblicato si possono notare ancora le macchie di bruciatura sulla mano destra conseguenza di un incidente avvenuto qualche anno fa nonostante ciò morandi appare in buone condizioni e ha rassicurato i suoi sostenitori dicendo che sta sicuramente meglio anche se rimangono alcune cicatrici con il suo consueto ottimismo e il sorriso che lo contraddistingue ha voluto condividere un momento di gratitudine e vicinanza con il pubblico dimostrando ancora una volta il suo forte legame con i fan morandi continua a essere una figura di riferimento capace di trasformare momenti difficili in occasioni per ringraziare e stare vicino a chi lo sostiene da sempre e e e Grazie a tutti